E' una giornata che segna la storia della Fondazione Carifano, così il Presidente Giorgio Cragnola che questa mattina ha annunciato la data, tanto attesa, per l'inaugurazione del nuovo centro natatorio realizzato e finanziato dall'ente stesso. La cerimonia è prevista per giovedì 1 febbraio alle ore 18 alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Bodi, che grazie all'interessamento dell'On. Carloni sarà presente al taglio del nastro, anticipato da uno spettacolo, da alcuni interventi istituzionali e dalla benedizione della struttura. Per questioni di sicurezza e di capienza massima di 240 persone, l'iniziativa non sarà aperta al pubblico, ma sarà visibile in diretta su Fano TV e sui canali social della Fondazione. Presidente, un'opera che ha impegnato per tantissimi anni la Fondazione, la quale ha messo in campo il finanziamento più alto nella sua storia? Sì, 7.250.000 euro sono l'impegno finanziario della Fondazione per realizzare il centro natatorio Nuotiamo Fondazione Carifano. Questo appunto è il nome scelto, per quale motivo? Il nome è intanto un nome che rappresenta una collettività. Nuotiamo, dà un senso d'insieme. Questo logo con le due O all'interno delle quali ci sono due parole, nuoto e salute, caratterizzano questo centro natatorio, che non ha soltanto una vocazione sportiva, ma anche una sezione riabilitativa, che è un'attenzione alle cure necessarie per le persone più fragili, che anche con l'acqua e quindi con quello che trovano nel centro natatorio possono portare avanti le loro cure. È un'opera che la nostra collettività aspettava da oltre 30 anni, quindi è arrivato il momento di metterla a disposizione dell'amministrazione comunale, che la riceverà in usufrutto gratuito per 30 anni e poi l'amministrazione comunale la consegnerà al gestore che potrà così portare avanti i servizi. Non è ancora stata stabilita però la data ufficiale di apertura. Il centro comprende quattro vasche, di cui una da 25 metri, due più piccole per l'acqua gym e i bambini e una per la riabilitazione, ma il progetto prevede per il futuro la possibilità di realizzarne una anche da 50 metri. Con l'inaugurazione, ha commentato oggi il sindaco Seri, si dà una risposta importante a due bisogni della città. È una risposta ad un bisogno sportivo, quello di una struttura, una piscina adeguata ai nuovi parametri e alle esigenze sempre più alte che ci sono delle società sportive, dei nostri giovani e meno giovani, se così si può dire. Quindi è veramente una bella risposta. E l'altra è una risposta anche alla salute, con un centro riabilitativo all'interno, anche questo moderno, con tutte le caratteristiche che deve avere un centro di riabilitazione. E qui lasciatemi esprimere anche un grande ringraziamento alla Fondazione, perché ha fatto un investimento importante per la città e per il territorio. E vorrei sottolineare anche la grande collaborazione che c'è stata fra l'amministrazione e la Fondazione, perché questi percorsi sono percorsi complessi, con ostacoli che si incontrano in diverse circostanze, ma mi piace anche sottolineare che tutto questo sta in un progetto molto più ampio, partito diversi anni fa, che vede la Fondazione e l'amministrazione partecipi collaborativi. La gestione ordinaria dell'impianto, come spiegato dall'assessore Brunori, sarà di competenza del nuovo gestore, cioè della Fano in Fortuna e Nuoto e Pool 4.0, che avevano costituito il raggruppamento temporaneo di imprese. Invece la manutenzione straordinaria spetterà al Comune di Fano. Assessore, per quanto riguarda la viabilità, a che punto sono i due tratti di ciclabile? Il primo tratto è già disponibile, è solo mancante di illuminazione, mentre la seconda parte è quella che deve essere messa a disposizione dal Comune. Stiamo facendo una bonifica bellica, che abbiamo dovuto approfondire, proprio perché ci sono stati dei ritrovamenti, quindi adesso andiamo ad indagare un'area un po' più estesa, dopodiché partiranno i lavori. Ricordiamo che questo tratto non solo congiungerà la città al centro natatorio, ma si congiungerà anche al discorso della ciclovia del metauro, che andremo a realizzare e dal parco urbano, grazie ad un ponte che naturalmente verrà realizzato con la Regione Marche, riusciremo ad accedere alla zona di Sant'Orso e quindi alla periferia più interna. Si discuteva anche di un attraversamento di fronte all'aeroporto in sicurezza. Su questo ci sono novità? Sull'attraversamento stiamo lavorando per capire il tipo di progettazione, perché probabilmente ci sarà anche una rotatoria che verrà messa a disposizione e quindi dobbiamo trovare il punto più affine e più utile per riuscirlo a congiungere a quello che oggi è il centro.